Il 13 marzo alle 17 all'interno del ciclo di incontri della manifestazione Caffè letterario al Centro Cultura del Mercato si è svolta la presentazione del libro Il Sentiero degli Idei di Wumin II e rappresenta lo stesso autore. Mercoledì 16 marzo si è svolta la manifestazione Notte Tricolore per la festa nazionale dell'Unità in onore dei 150 anni dell'Unità d'Italia che ha visto la partecipazione molto numerosa dei ragazzi delle scuole di Argenta. L'evento ha visto anche l'inaugurazione di una mossa fotografica dedicata a questo argomento presso il Centro Culturale Mercato. Il 15 marzo alle 21 sul palco del Teatro dei Fluttuanti di Argenta è andato in scena lo spettacolo comico Italiani si nasce e noi lo nacquimo con il duo Maurizio Micheli e Tullio Solenghi in onore dei 150 anni dell'Unità d'Italia. L'8 marzo alle 21 sul palco del Teatro dei Fluttuanti di Argenta è andato in scena lo spettacolo di prosa Il sogno di Ipazia, gli occhi al cielo, portato sul palco dall'attrice Francesca Bianco. Open Media Educational per il suo programma La Storia Sei Tu sta raccogliendo testimonianze riguardanti tutto il Novecento. Se anche tu hai qualcosa da raccontare, contanta la redazione al numero in sovrimpressione 0532 3185 32. Grazie a tutti.